Come sempre, come ogni anno accade, ci sono luci e ombre sulla giornata clou della perdonanza celestiniana edizione 721, il giorno del corteo. È apparso un evento, considerando tutta la settimana, decisamente sotto tono quest'anno, ma probabilmente il tutto era stato già messo in conto, guardando i fondi, pochi a disposizione. Un budget davvero limitato, quello che ha avuto quest'anno il comitato perdonanza, che è riuscito comunque a organizzare una settimana ricca di appuntamenti, alcuni anche di elevata qualità. Niente big, poca gente però rispetto a quella degli anni passati al corteo e alla Santa Messa a Colle Maggio. Soprattutto qui qualche critica c'è stata da parte dei fedeli tenuti rigorosamente lontani dall'altare, limitati da transenne con le autorità invece nelle prime file. Il corteo quest'anno è partito in orario ed è andato anche veloce, forse pure troppo, giustificando la velocità con la necessità di rispettare i tempi dettati dalla diretta televisiva. Tante presenze nuove in corteo, qualche esclusione su tutte quella del comitato Nobbiomasse, che si batte contro la realizzazione dell'impianto a Bazzano. Un giro breve per tutti attraverso la Porta Santa, in un percorso limitato ovviamente per ragioni di sicurezza vista l'inagibilità della Basilica. E dal Sacro al Profano, questa sera gli appuntamenti continuano. Alle 21 a San Bernardino, l'orchestra da camera aquilana si esibisce assieme alla Corale 99. Alle 22.30 in Piazza Duomo, concerto dell'orchestra di Piazza Vittorio. Grazie. 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 Grazie.